Ued, Gemma Galgani lascia il trono over per ballando con le stelle? Gemma Galgani lascia uomini e donne, ecco gli ultimi rumor sulla dama. Autore del video. Eccoci con un nuovissimo appuntamento con le anticipazioni di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì, il format continua ad essere uno dei più seguiti sulla rete Ammiraglia. Nel corso degli anni, la padrona di casa oltre a trono classico ha pensato di dare la possibilità anche a persone di età avanzata, aiutandole a trovare l'anima gemella. Una delle protagoniste indiscusse del dating show, in particolar modo, è la dama Gemma Galgani. La donna, dopo la breve relazione con Giorgio Manetti, a distanza di tre anni continua a far parlare di sé. Infatti, dopo aver ammesso di essere ancora interessata al suo ex, ha scatenato un nuovo putiferio all'interno dello studio. Scopriamo insieme le ultime novità sulla donna. Gemma alla conquista di Giorgio? Gemma malgrado le critiche di Tina Cipollari e di Gianni Sperti, continua ad appassionare il proprio pubblico. Oltre ad essere seguita all'interno del format, la bionda conquista ogni giorno sempre più fel sul suo profilo social. Fin dal suo primo ingresso nel programma, l'ex di Marco Firpo ha sempre ammesso di credere nell'amore vero. La storia con Giorgio Manetti, di qualche anno più giovane di lei, circa due anni fa, divenne un vero e proprio romanzo tanto, che anche Barbara D'Urso pensò di invitarla nel suo programma. Purtroppo dopo circa sette mesi di frequentazione i due si lasciarono in malo modo ma nelle ultime puntate, dopo tanti dubbi, ha finalmente dichiarato apertamente di volerlo riconquistare a tutti i costi. Dopo una cena a lume di candela e un bacio a stampo di studio, la dama pare sia pronta di nuovo a portarlo via dallo studio, ma quest'ultimo, come ha già ribadito varie volte, non sembra essere proprio intenzionato. Come finirà? Gemma chiamata da Millie Carlucci. Stanca e demoralizzata dai vari avvenimenti, Gemma però potrebbe lasciare lo studio di uomini e donne. I continui attacchi ricevuti dalla Cipollari sembrerebbe Robert stancato la dama. Infatti, stando ai rumors, nelle ultime ore, dal web circolerebbe voce di una sua probabile presenza e il Rai. Millie Carlucci, presentatrice di Ballando con le stelle, pare l'abbia contatta per partecipare al suo programma. Ad oggi però non ci sono certezze su tale invito e non resta altro che aspettare nuovi aggiornamenti. Chissà se Gemma allontanandosi dal datino di Maria non trovi l'anima gemella tra le braccia di un ballerino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.